Mi chiamo Giulia, ho tre sorelline di cui due sono gemelle, si chiamano Natalia e Delia e l'altra si chiama Agnese. Ho trascorso le vacanze a un resort a quattro stelle che si chiama Gattarella Resort con dei miei amichetti che si chiamano la femminuccia Anastasia e il maschietto Nicolino. Anastasia è una bambina molto allegra però è molto iperattiva. Nicolino invece è un bambino educato ed è anche molto allegro. C'era un galeone bellissimo, abbiamo fatto tantissimi giri. Il mare è molto bello, pulito, limpido, non è tanto profondo quindi i nostri genitori ci hanno fatto giocare molto in acqua perché non erano preoccupati. Abbiamo messo delle maschere e abbiamo giocato anche con delle palette. E avevamo un pallone bellissimo, trasparente e colorato. Il capitano Gattarella è un gatto pirata. È molto simpatico, è divertente, è molto affettuoso. E abbiamo mangiato con Capitan Gattarella. Il mio pat preferito, come avete potuto vedere oggi, è la pasta al tonno. Oggi me l'hanno fatta davvero buonissima. Quando vedo al ristorante non aspetto tanto perché c'è un tavolo fatto per tutti i bambini. Siamo saliti su questa trilina e abbiamo iniziato a fare tutto questo giro. Ci siamo divertiti, ci abbracciavamo, ci davamo bacini, urlavamo, sembravamo dei pazzi. Ci siamo divertiti tantissimo. Il Pellegronde è fantastico. Ci siamo divertiti, ci buttavamo nelle palline, scivolavamo, giocavamo. Il Gattarella è stato ideato soprattutto per i bambini, quindi ci sono molti giochi. Allora c'è la piscina, il parco avventura, i confiabili, poi c'è l'animazione, il mini club. E poi c'è lo young club per i bambini più o meno dell'età mia. La Montessori per i bambini da 0 a 3 anni. Ci sono anche le macchinine più piccole. E fa il giro per tutto il villaggio, così le persone che stanno un po' più in alto devono fare la strada con i bambini e il passeggino. Secondo me i bambini devono venire qui perché è un posto fantastico. Uno che non mi piace per niente del Gattarella è che la vacanza finisce troppo in freddo.